Per cogliere l'attualità probabilmente basta dare uno sguardo a quello che si sta dicendo adesso, che si sta approfondendo rispetto alle grandi tematiche, alle grandi sfide dell'economia contemporanea. Penso per esempio a quello che si dice nel mondo di Davos, il mondo del mainstream economico e anche accademico mondiale, dove vengono riscoperte delle domande che sono esattamente quelle del Toniovi, cento anni fa. La tematica dell'etica nell'economia, la tematica dell'umano nell'economia, la tematica della solidarietà, la tematica degli ultimi, che vengono riscoperte a partire dallo stato attuale dell'economia con tutte le sue problematiche, dalla disuguaglianza al disagio, al rapporto tecnologia e umano. Ecco, tutti i temi che cento anni fa, con spirito profetico, il toniolo aveva posto, che oggi in qualche modo tornano di attualità. Naturalmente devono essere applicati al nuovo contesto, ci sono delle forme del pensiero del toniolo, degli aspetti datati, come è ovvio che sia, ma è un pensiero ispirante che oggi va assolutamente riscoperto. La parola dono è una parola densa di significato e di profondità, non va banalizzata immaginando che sia qualcosa del tipo elemosina, del tipo liberalità. Dentro questa parola c'è un'espressione di ciò che l'economia è alla sua radice, e cioè c'è il senso di un'economia che recupera il senso stesso di tutte le cose e le percepisce come un dono, perché la realtà è questa, l'uomo non è padrone delle cose, è amministratore, le cose le accoglie come un dono e dunque in qualche maniera le deve considerare un dono anche quando ne fa un utilizzo di tipo economico. Quindi la parola dono non va intesa soltanto come quello che dopo aver fatto gli affari, se rimane qualche cosa, con buon cuore la elargisco. Ecco perché se fosse questo naturalmente non sarebbe sicuramente capace di dare una risposta alle grandi problematiche dell'economia. La parola dono è piuttosto una maniera di intendere la realtà, una maniera di accoglierla e una maniera di amministrarla, che implica quando è possibile anche la donazione gratuita, la gratuità, ma che è un'ispirazione gratuita di tutto il complesso delle dinamiche economiche, a partire appunto dall'accogliere la realtà come un dono. Ne viene di conseguenza una serie di cose che danno al dinamismo stesso dell'economia un altro senso che sicuramente è molto più solidale e sicuramente improntato a maggiore giustizia. Noi ci troviamo in un tempo in cui proprio il senso dell'uomo è in qualche maniera messo in questione. Ma mai come in questo tempo c'è bisogno di affrontare di nuovo il tema dell'umano. C'è un umanesimo di ritorno che deve essere assolutamente riscoperto ed era la chiave del pensiero del toniolo. Abbiamo bisogno di riproporci la domanda ma chi è davvero l'uomo fino in fondo? Il toniolo era l'uomo della umanità integrale, dell'umanesimo integrale e per questo dell'economia integrale. Quando si parla di integralità si parla di una integralità che ha a che fare con le dimensioni diciamo secolari, l'aspetto della persona in ciò che è visibile ed è sperimentabile ma anche di questa integralità che ha a che fare con il trascendente. Ecco da questo punto di vista la visione cristiana è pertanto anche una visione che si possa sviluppare nel clima di una università cattolica è particolarmente importante perché ci sia una visione dell'uomo improntata alla integrazione di tutti gli aspetti della persona e questo rende anche l'economia un'economia integrale nei suoi metodi, nelle sue dinamiche e nei suoi frutti.